Avete sentito di Houston, New York? Attenzione, stai per uscire dall'area sicura. Per uscire dall'area sicura. Sì, sì, sì. non mi sto nemmeno impegnando a terra, sto per lanciare guadagniamoci il rispetto non mollate, prima o poi uscirà da riparo ricarico, copritevi atti, agente sarà un piacere uccidervi e a terra apprezzo molto no 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 Alla prossima Ah, finalmente ho di nuovo un'arma L'hanno colpito Ehi, non prendiamo maiali qui Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima I rilevamenti indicano che l'aria è sicura Attenzione, stai abbandonando l'aria sicura Alla prossima Non startene lì, fatene via subito Alla prossima Alla prossima Qui comando JTF Attenzione, stai abbandonando l'aria sicura Forza Alla prossima 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 Andiamo Comando a partuglia Una squadra recuperi una cassa di scorte mediche rubate nel parcheggio sulla quindicesima Est Alla prossima Ok, gente, ascoltate Mi sono state poste molte domande sulla Direttiva 51 e sulle persone con gli orologi arancioni Con tutta la merda che ci sta piovendo addosso, nessuno sa che cosa sta succedendo Beh, oggi è il vostro giorno fortunato perché vi spiegherò tutto e dopo non ci saranno più scuse. Andiamo con ordine. Sì, dobbiamo farlo. La direttiva 51 arriva direttamente dalla scrivania del Presidente, il che vuol dire che è perfettamente legittima. Una mano per trovare quelle scorte, magari? Grazie. Hai visto? Se volete il linguaggio formale, eccolo qui. D'ora in poi, ci coordineremo con la divisione. Coordineremo le nostre operazioni. Avremo dell'autorità e dell'autonomia sulle strategie e l'implementazione, ma gli agenti della divisione avranno l'ultima parola. Spero che non servirà. Se siete sul campo, non aspettate che un grande capo vi dia il permesso, prima di sparare. Merda! Ah! Ah! Ok vado! Ti supplico, ti prego! Oh! Non lo sfide! E imparate a espalda! Ah! Non lo sfide! Yeah, e non so o uff! Oh! Si pegole- di qualcosa, ja! Questa esi? Non mi sento. Non mi spiacerebbe averti al bianco in tutti gli scontri. Pensa di te, le cose sarebbero andate... Farò in modo che le scorte tornino alla clinica. Grazie. Per fortuna c'eri anche tu qua. Da non crederci, Big G, il caffone più caffone che conosca, si riempie la bocca dicendo che è il boss del quartiere, facendo del male a gente che non se lo merita, solo per dimostrarlo. Lo sappiamo entrambi che questa cosa non va bene. Sarebbe un pericolo... Questa è la nostra città, ora! Fateli uscire la ripara! Ora gli leviamo il peccato. Sarà un piacere uscire! photo. Ciao. Ciao. Sono tengo! Sì! Possiamo fare quello che ci fai, subito! Ehi, ma io qui... Ok, ce la faccio io qui! Un tiro sicuro! Un tiro sicuro! Un tiro sicuro! Non c'è nemmeno sfida! Finiremo! Attenzione, cazzo! Basta, ci siamo quasi! No, a fame! Finirà in mille mesi! È un presto! Fate riuscire dal riparo! Abbiamo quasi finito qui! Abbiamo fatto il riparo! Presto, facciamo questo! Nonsunsi! Pratento, facciamo questo! Il batico la gradazione! Èreteusan su Как andata? Che cosa vuoi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.